Oh, tutti questi massaggi mi hanno fatto venire appetito! Ehi Kyle, che cosa si mangia da queste parti? Prima di dirvelo, vorrei che vi metteste in piedi! Bravi orci e ora a terra! No, scusa, ma io stando in piedi digerisco meglio! Fidatevi, sarà bello! Stragliatevi! In fondo è una richiesta logica! Bravi, bravi, bravi! Chi è l'orso più bravo? Io, sono io il più bravo! Allora rotola! Orso bianco rifiuta, non è dignitoso! È quello che stavo dicendo, è piuttosto umiliante, non è vero? Rotolate! C'è qualcosa in quel clic-clac che mi fa venire voglia di fare tutto quello che ordina Kyle! Non so, a me sembra una specie di riflesso condizionato! Bravi orci! Morditi la coda! Implora! Compila il modulo delle tasse! Un applauso al cavallo terrestre in mare! Non sapevo che puzzasse così tanto! Neanche io! Ora avvicinatevi lentamente e osservate da vicino l'ultimo dei nostri animali terrestri! Il tritone di terra! Stringetevi tutti il più possibile e scattate col flash tutte le foto che volete! Gli animali terrestri lo adorano! Beh, se proprio esisti! Mi uschionate le iridi! Oh, scusa tanto! No, non chiedergli scusa! Loro dicono tutti così Ah, mi uschionate le iridi! Quando in realtà ci vedono perfettamente! Io lo sapevo! Fate girare i piatti! Sì, fateli volteggiare! Attenzione! Avete fracassato tutti i piatti! Buoni a nulla! Booo! Credo che dovremmo andare via! Giusto! Cosa? Non potete andarvene! Abbiamo appena iniziato! Beh, sai, non mi interessa! Noi adesso ce ne andiamo! Fermi! Siete la nostra migliore esibizione! Che mi importa! Ci rifiugiamo di eseguire altri numeri! Noi andiamo via! Il tuo microfono! Avevo già preparato le magliette! Parola di Kai! Aiuto, Foro! Bella sciccosa! Non mi piace! Hai ragione, Virginia! Questo posto è orrendo! Basta con questi occhiali colorati di rosa! Oh no! I orsi sono nei guai! Siamo circondati! Orso bianco non vedo via di fuga! Oh no! E ora quello che tutti stavate aspettando! Così come farebbero sulla terra, i forti orsi lotteranno! Aiuto! Non vogliamo lottare! Siete sicuri? A voi piace lottare, no? No! Invece... A noi piace lottare! Oh! 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 Grazie a tutti.